Ieri sera intorno alle 18 si è verificato questo sbottamento, ma sono prontamente intervenuti innanzitutto i vigili del fuoco che ringrazio. Com'è la situazione nell'area legata ai blackout di corrente elettrica e l'assenza di segnali di telefonia mobile? Sì, la corrente elettrica è stata ripristinata ovunque, mentre abbiamo ancora dei problemi con la telefonia mobile. Ci sono ancora alcune compagnie che non riescono a garantire il segnale, abbiamo già segnalato sia le compagnie che le prefetture il problema, speriamo che nel weekend si risolvi anche quest'ultimo problema.